benvenuti tutti e tutte io sono france fischer direttore del venice center for digital public humanities questa riunione questa presentazione sarà in italiano io faccio una brevissima introduzione in inglese mi dispiace non andare via sarà tutto in italiano anche la discussione we have apologies from professor paolo massandrea who very unfortunately cannot be here with us today because professor pastore stocki emeritus from university of parla suddenly passed away and this university is doing a memorial in presence at this very moment so i'm very sorry for this we have a short intervention from guido milanese who will connect on shout by paolo and he's doing his exams at the moment then paolo monella the author of the book that we are going to present here today and discuss today will then have a short statement of five to ten minutes then we have valeria vitale and alessandro janella with 15 minutes presentation and then this will be followed by a discussion on the book and digital humanities methodologies methodologies in general thank you for to tiziana mancinelli for organizing this little book presentation series and as always for doing all the communication and the technical support this is actually recorded and i think we are going to publish this on the vdph youtube channel afterwards so be aware of this but please be involved in the discussion and ask question to the author and the presenters via chat or via audio um before i introduce you paolo i introduce you first or yeah okay i i start to introduce you and then we we um we um 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 guido is in the meeting already ah okay he's here okay uh so before i introduce uh you paolo maybe uh um um guido uh milanesi uh professor for classic classics and latin literature at the catholic university uh del sacro cuore a milano uh was extremely supportive in the um revision the publication process of paolo's book and has a lot a lot a lot to say even though he has uh only a very little time to to talk here today so um where are you ah one john non-si sent un mute ecco fatto si ci siamo ehm paolo allora restiamo di italiana abbiamo detto vero sì 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 perfetto benissimo eh sì eh soltanto un rapido saluto a a tutti i i presenti e in particolare all'autore in particolare a coloro che parleranno hanno organizzato questo al professor orlandi che vedo eh collegato e purtroppo sono in seduta di esame e quindi devo tornare a torturare i poveri bambini ma eh ma eh ho chiesto ad Andrea con salvi di unirsi e così potrà eventualmente lasciare una eh una presenza dell'interesse che ha la nostra università per questi per questi aspetti eh sì che cosa io ho da dire su questo libro l'ho detto nella 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 presentazione cioè eh è un libro che ha un vantaggio ha una qualità eh molto semplice da descrivere cioè non è un libro inutile nel senso che eh è molto facile oggi e ce ne sono tanti e tanti esempi è molto facile oggi nel campo soprattutto della didattica eh scrivere libri che in realtà non sono libri sono una una serie di di eh indicazioni di siti web di di strumenti che però non sono posti in relazione l'uno con l'altro e lasciano sottintendere l'idea che il rapporto dell'informatica in questo caso con la didattica cioè con un aspetto delle scienze umanistiche il rapporto sia sempre e semplicemente quello per dirla volgarmente di di fare le stesse cose magari un po' più in fretta invece il il libro di eh di di Paolo ha il la 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 grande qualità di poter porre delle domande al lettore e di dare l'idea al lettore che la presenza il contatto della didattica in questo caso alla glotta didattica del delle lingue antiche però il libro in generale sulle sulla dimensione dell'insegnamento umanistico venga rimodulata dalla presenza di queste tecnologie cioè non sia il fare le stesse cose in maniera magari un po' più smart come dicono oggi i brillanti eh è tutto smart no eh non è smart un accidente e invece si tratta di ripensare su queste cose io credo che passato un certo tempo da questa situazione in cui siamo questo libro dovrà e se potrò essere utile lo farò ben volentieri questo libro dovrà arrivare a una seconda edizione perché questo momento questo lo vedo come progettazione proprio perché questo momento ieri sera c'è stato un consiglio di di partimento molto a fondo su questo anche molto combattuto è chiaro che la situazione che abbiamo vissuto ha cambiato il rapporto del docente con la tecnologia quindi certi aspetti che il libro di paolo presenta come come dire to do o to be sono attualmente qualche cosa che ha cambiato proprio la loro ha cambiato la situazione dovremmo ripensare a queste cose per cui eh mi auguro vivamente che ci sia la possibilità di arrivare a una nuova edizione e prendere atto del fatto che ehm la situazione eh che abbiamo vissuto e che in parte stiamo tuttora vivendo ha rimodulato proprio i termini i termini del problema ecco non per giocare a fare il piccolo eh il piccolo eh eh diciamo egheliano in tempi non egheliani però è chiaro che la quantità cambia la qualità e questo è un fatto insomma la la quantità cambia la qualità e la 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 massa di input di domanda tecnologica che c'è stata nell'ultimo anno ha cambiato veramente le modalità del dell'insegnamento quindi il mio augurio è quello che questo libro possa avere il successo che merita e poi poter raggiungere presto una una nuova edizione e aggiungo solo poi vi saluto e torno a maltrattare i miei poveri incolpevoli fanciulli che la la questione è che se questo libro fosse stato una semplice lista come ce ne sono tante una semplice lista di strumenti non sarebbe possibile pensare a quella questo tipo di progetto che sto dicendo proprio perché è un libro che pone problemi e si può mettere in contatto quei problemi che stiamo vivendo che abbiamo vissuto e arrivare a una rimodulazione e questo è un pochino il mio il mio augurio ecco come vedi paolo ti lascio un altro compito da svolgere sei muto eh bene è un bene grazie d'accordo allora io penso che dovrò tornare ai miei compiti di 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 esami e saluto tutti quanti auguro buon lavoro mi spiace per questo grazie davvero grazie arrivederci and now it's uh it's a great pleasure for me to introduce it to uh today's author so it's not necessary everybody knows paolo monela so not only in italy uh but also um globally i so uh i'm doing it anyway so paolo um uh took up recently uh a researcher position in latin and digital uh humanities um and uh as a dh responsible for the pages project at sapienza university uh rome he holds a phd in classics from the university of palermo from 2006 he taught at ucla as a visiting lecturer uh he was a postdoc fellow at the centro interdepartimentale um of the academia di lincei and for many years he was a lecturer uh in digital classics at the university of palermo he curated the encoding of uh uh alim and other dh aspects of the archivio della latinità italiana del medioevo he is coordinator of the unione accademica nazionale uh information technology support group um and since 2021 he's serving as a board member of the iugd so the italian dh association he published two digital editions uh and widely on latin literature and scholarly editing but most importantly uh he was a visiting scholar in digital textual scholarship at the venice center for digital and public humanities in the past year and and he was not only working on the creation of a linked open data oriented digital model for graphematics and textual philology but he was a central figure and a driving force a visionary and an extremely supportive collaborator and setting up the center as we see it right now so it was definitely be a different center if there wasn't paolo involved in or this uh initial phase of our center and i'm very grateful for for this and uh it's a pleasure to to work with you and everyone agrees from our team in venice um your contributions to uh our activities discussions project work and design are always spot on constructive and well informed by by wide experience and scholarly expertise um so in the field of digital humanities uh and the application of digital methodologies to humanities research and teaching and that brings us to your book uh we are presenting and discussing here today uh metodi digitali per l'insegnamento classico e humanistico um a critical reflection on digital methods and tools for schools and university teaching in the field of uh um humanities so paolo you uh have a small spot of a slot of five to ten minutes to give a statement on your on your book and then we will follow uh up with uh two further um presentations grazie france grazie a tutti gli intervenuti a chi presenterà e a tutti quelli che nel pienissimo giugno della scuola dell'università hanno trovato un retto per essere noi oggi a tiziana mancinelli che ha organizzato questo evento e lisa corromo e al bdph e a franz fisher in particolare parentesi non dovevo dire lo dico il bdph in questo quando sono stato io visiting scholar l'anno scorso e ancora oggi è veramente uno hub di incontro non solo umano ma ehm scientifico secondo me uno snodo fondamentale delle digital humanities oggi in italia un posto in cui si scambiano idee mi ha arricchito in una maniera incredibile e quindi sono grato a veri piace a franzi in questa impostazione possiamo dire poco italiana però l'abbiamo detto a a bassa voce eh va bene allora detti ringraziamenti dirò semplicemente un po come è nato questo libro perché ovviamente mi interessa soprattutto sentire quel che hanno da dire eh i i due presentatori eh 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 e la discussione successiva inoltre saremo brevi oggi ehm il libro è nato come un articolo doveva essere un articolo e svelo questo retroscena eh che cambierà la vita di tutti immagino eh dopodiché è venuto lungo eh due persone due amici mi hanno consigliato di farne un libro Andrea Cozzo grecista dell'università di Palermo e Paolo Virone ex mio preside eh uomo di scuola cioè una persona della scuola una persona dell'università me l'hanno consigliato perché hanno detto secondo ciascuno di loro ha detto secondo me questo libro potrebbe essere utile potrebbe servire ehm e poi per alcuni motivi e questi stessi motivi hanno convinto poi Guido Milanese a appunto accoglierlo alla casettrice Ducat della Cattolica e siccome volevo che fosse utile ho chiesto all'editore che fosse in open access e ha accettato questo lo sottolineo perché non è cosa da poco l'ho citato immediatamente Ducat di rendere disponibile open access perché secondo loro poteva essere utile Paolo Virone ha detto direttamente per questo per frenare i tecno entusiasti io ho legato la mia vita la mia vita lavorativa la mia carriera che non c'è insomma però voglio dire c'è il mio lavoro scientifico no legato al digitale allora com'è che il libro deve servire per frenare i tecno entusiasti e il mio parere che prima del libro attenzione è stato iniziato prima del covid nell'autunno prima del lockdown ok quindi non c'era il covid in vista la mia impressione era questa che nell'applicazione delle tecnologie didattiche a scuola e università all'insegnamento umanistico si fosse ancora divisi in tecno in apocalittici e integrati per gli apocalittici stanno arrivando i barbari per gli integrati qualunque tra gli integrati spesso c'è il ministero la governance degli atenei i presidi qualunque progetto sia digitale e perciò stesso innovativo io non credevo che non credo che sia così e quindi l'idea era di fare un articoletto in cui esponesse alcune opinioni in cui io dicessi quali metodi digitali sono innovativi dal punto di vista pedagogico e didattico e quali no essendo anche critico nei confronti di alcuni vicoli ciechi breve c'è per essere concreto la lim che costa tre volte quanto un progettore ed è usata come un progettore per me è un vicolo cieco bisogna fare elettromarcia e uscire il vicolo cieco cioè usare il progettore di connessione invece far usare i wiki no far editare wikipedia oppure all'università far editare perse os eccetera agli studenti è un metodo digitale che invece è efficace pedagogicamente infatti soprattutto nell'articolo avevo citato solo metodi e tecniche digitali che io stesso avessi usato personalmente che hanno funzionato poi è venuto un po lungo è diventato un libro però sempre con la stessa impostazione e chiudo dicendo che poi è venuto il covid dopo ovviamente ho dovuto descrivere delle parti ma secondo me col covid i nodi sono venuti al pettine perché i problemi tradizionali della didattica in Italia cioè didattica trasmissiva e interrogazioni nozionistiche sono stati trasferiti in digitale dove si sono ingigantiti e infine adesso siamo e chiudo nell'era post covid in cui il new normal prevederà ancora del digitale ma attenzione perché scuole soprattutto atenei si stanno già muovendo per integrare per integrare cosa e come del digitale per integrare quello che è bene economicamente per esempio l'Ateneo del Sud ti fa seguire le lezioni da casa e si prende gli iscritti l'Ateneo del Nord ti fa seguire le lezioni le lezioni da casa e si prende gli iscritti del Sud e ci sono tre persone in classe e 80 a casa ma questo pedagogicamente non è bene è bene economicamente oppure e chiudo registro il corso di Paolo Monella faccio un MOOC c'è un corso online con video registrati lo ripeto per i prossimi 30 anni l'università risparmia ma non è bene pedagogicamente invece per esempio giusto per dire la pars construence se invece io unisco il mio corso di latino e chiudo con questo un laboratorio in cui una volta a settimana anche da casa i ragazzi editano annotano digitalmente dei testi è una integrazione che è pensata non economicamente ma è pensata pedagogicamente ora secondo me quindi la logica pre covid durante il covid e post covid è la stessa cioè dobbiamo essere noi come comunità mi fa piacere che sia presente Marina Puzzoni cioè la presidenta della associazione italiana informatiche e umanistiche per l'evoluzione digitale dobbiamo noi essere come comunità educante a scuola università nell'ambito umanistico e classico a take the lead cioè a guidare il processo mentre gli atenei sono già molto avanti e forse di voi sono già scappati dalla stalla va bene mi sono tenuto in cinque minuti Franz non lo pensavi ho detto grazie 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 ok abbiamo tempo per discutere dopo le due presentazioni che seguono adesso grazie 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 Paolo e Tiziana per avermi invitato, per avermi dato l'opportunità di discutere alcuni temi che mi sono molto cari, anche per commentare la lettura di un libro che ho trovato veramente interessante. Mi ha colpito anche come coniughi appunto un discorso teorico e metodologico con dei consigli poi anche molto pratici, molto utili. E vorrei cominciare con il tema dell'openess, che è uno dei miei preferiti e che ricorre appunto a una specie di trait d'union nel libro di Paolo e che si esprime in molti aspetti, ma insomma cominciamo con quello un po' più pratico che è la scelta di utilizzare software e risorse open source. Quindi non semplicemente gratuite, ma anche che sono sviluppate collaborativamente, che sono sviluppate senza fini di lucro e con licenze aperte. E questa scelta non ha solo diciamo il beneficio ovvio immediato di risparmiare parte del budget scolastico, che tra l'altro potrebbe essere investito altrove, ma è diciamo anche una scelta più ampia. Innanzitutto potrebbe anche permettere per esempio poi agli studenti di installare loro stessi questi software, utilizzare queste risorse al di fuori del luogo scolastico e quindi facilitando anche quelle dinamiche di flipped classroom. Ma un diciamo un tema che è legato all'openness che insomma che che vorrei che vorrei discutere insomma anche diciamo più il diciamo l'aspetto anche anche etico di di questa scelta. che magari ci aiuta a mostrare anche agli studenti che il profitto economico non è necessariamente sempre il fine ultimo di tutti i nostri sforzi, ma che ci sono anche diciamo altri tipi di traguardi, altri tipi di soddisfazioni che derivano dall'aver prodotto qualcosa di buona qualità, dall'averlo prodotto e condiviso con una comunità più ampia e di averlo fatto insieme insieme ai propri compagni, non da soli. Ma diciamo per quanto io sia assolutamente una sostenitrice entusiasta di tutti gli approcci di tipo open, pensavo insomma che sarebbe anche importante magari discutere alcuni di quelli che possono essere dei problemi o delle barriere nell'adozione di questi approcci. quello che mi sembra magari quello più evidente è il fatto che appunto questi prodotti, queste risorse vengono molto spesso sviluppati con dei budget minimi se non assolutamente inesistenti e il risultato è che spesso non hanno quella stessa facilità di utilizzo, quelle stesse diciamo interfacce user friendly a cui siamo abituati con i prodotti commerciali. E questo cosa vuol dire? Che possono richiedere magari una dose extra di impegno e di motivazione sia in fase di installazione che in fase di uso. Però se questa è decisamente una barriera che pensavo fosse importante menzionare, è anche vero che diciamo in quella che è la mia esperienza anche nell'aver usato questi metodi e questi strumenti nel mio insegnamento è che diciamo queste barriere, queste situazioni anche queste frustrazioni che si possono creare intorno alle risorse digitali possono diventare anche delle occasioni per imparare, possono diventare delle occasioni per imparare insomma alcune skill se vogliamo trasversali, la prima direi che è la pazienza e le altre insomma possono essere per esempio come servirsi di forum online, come servirsi dei tutorial, come cercare e trovare la documentazione che viene sviluppata intorno ai software e alle altre risorse open, come entrare in contatto con gli altri membri della comunità che magari possono aver avuto problemi simili o addirittura come entrare in contatto con gli sviluppatori che molte volte sono più che contenti di avere un dialogo diretto con gli utenti. E queste skill diciamo non sono specifiche di un solo software ma sono appunto possono essere tranquillamente trasferite a una serie di situazioni e magari anche trasferite al di là dell'ambito informatico. E un'altra cosa che pensavo fosse magari utile per la discussione menzionare è che non stiamo richiedendo magari soltanto agli studenti di fare diciamo un di essere più attivi e di avere un atteggiamento appunto più motivato nei confronti alla tecnologia, di non farsi spaventare magari dalla minore familiarità, ma lo stiamo chiedendo anche agli insegnanti, cioè a persone che magari hanno competenze informatiche di diverso livello e che possono reagire in maniera diversa e che fondamentalmente devono accettare una verità che noi appunto che siamo promotori del digitale dobbiamo diciamo cercare di comunicare nella maniera migliore e cioè che purtroppo la tecnologia non è qualcosa che si può imparare una volta per tutte nella vita e mettere da parte, ma è qualcosa che insomma bisogna continuare a studiare sempre, bisogna sempre continuare a curare, ad aggiornare, in un certo senso a inseguire. Ma diciamo se questa idea può sembrare scoraggiante, può sembrare anche quasi, insomma può intimidire qualcuno che ha meno dimestichezza con i computer, è anche vero appunto, penso che sia il nostro compito di comunicare questa idea, che nel più lungo periodo è proprio questo atteggiamento di do it yourself, di cercare di essere coinvolti, di cercare di capire che dà più soddisfazione, che ci fa sentire in controllo della tecnologia che stiamo usando e non alla mercè della tecnologia e dipendente insomma magari da figure tecniche che sono talvolta irreperibili negli ambiti scolastici. E un altro dei temi che ricorrono nel libro di Paolo e che mi sono particolarmente cari è quello appunto della partecipazione. E penso che l'idea appunto che Paolo suggerisce, che vediamo avvenire in diversi corsi all'università, soprattutto in UK lo vedo frequentemente, è appunto coinvolgere gli alunni non soltanto come fruttori ma anche come autori di queste risorse. E non soltanto perché appunto questo è bene per gli insegnanti, perché fornisce loro diciamo una scelta di compiti che hanno insomma un significato da assegnare agli studenti, ma anche perché penso che al di là diciamo della lezione sul contenuto serva anche a imparare o a riflettere su altri temi importanti, come il fatto appunto che la conoscenza non è qualcosa che vive al di fuori di noi e viene calata dall'alto, viene versata nelle teste vuote degli studenti. La conoscenza è qualcosa che si costruisce insieme a livello della società. E penso che appunto questo atteggiamento più partecipativo non solo prepara il terreno insomma anche a profili civici insomma per gli adulti del futuro più responsabili e più attivi, ma penso che anche abbia dei benefici in campo accademico per quegli studenti appunto che decidono di rimanere nell'ambito della ricerca e prepara anche a riconoscere e a comprendere quali sono gli obiettivi e le dinamiche, alcuni degli obiettivi e delle dinamiche che si stanno sviluppando nell'ambito della ricerca nelle digital humanities per esempio. E una cosa che sicuramente è cambiata tantissimo negli ultimi anni è il concetto di pubblicazione stesso, che insomma molti di noi sono cresciuti con l'idea che chi pubblica, pubblica diciamo un professore che ha studiato per anni tutto lo scibile su un determinato argomento e solo quando ha raggiunto la completezza assoluta su quell'argomento pubblica questa monografia che nella migliore delle ipotesi rimane lì come riferimento monolitico per i decenni a venire, vediamo adesso a fianco insomma a queste modalità che ancora ovviamente esistono, comparire nuove dinamiche in cui quello che i ricercatori fanno fondamentalmente è mettere a disposizione il prima possibile in formati standard dati che possono essere anche incompleti o preliminari perché appunto l'obiettivo non è produrre la monografia monolitica ma è condividere dei dati che poi possono essere riusati e invitare anche il resto della comunità scientifica ad arricchire insieme una risorsa che poi è a beneficio di tutti quanti. Un esempio nella mia esperienza è per esempio il gasettire del mondo antico Pleiades che è una risorsa popolarissima utilizzata appunto da studiosi, da ricercatori in tutto il mondo e mi è capitato spesso di incontrare appunto professori che criticassero magari l'accuratezza di alcune delle informazioni nel gasettire e la mia risposta era invariabilmente ok hai delle informazioni migliori, questa cosa è fantastica, crea un account su Pleiades e condividi le tue informazioni così la tua diciamo la tua competenza specialistica che è preziosissima su magari quel periodo storico o quell'area geografica non rimarrà soltanto a beneficio tuo e di un piccolo ridotto numero di studenti che seguono i tuoi corsi ma diventerà beneficio dell'intera comunità. Penso che diventare diciamo utenti attivi e non semplicemente passivi sia il modo migliore per diventare poi anche utenti critici perché credo che solo dopo aver cercato di fare qualcosa, di produrre qualcosa, si sia davvero in grado di apprezzare la qualità di questo qualcosa. Penso che sia anche forse uno dei compiti emergenti della scuola quello di insegnare agli studenti a valutare anche la qualità delle informazioni digitali e cioè da un lato appunto essere entusiasti e a partecipare dall'altro anche appunto essere critici e per parlare ad esempio anche di Wikipedia che viene viene menzionata anche da Paolo come uno appunto una delle delle risorse collaborative che possono che possono essere impiegate come 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 esercizi. Penso che appunto questo tipo di coinvolgimento serva anche magari a mettere in luce quelli che sono i gap e i bias di Wikipedia cioè quali sono le cose che mancano da Wikipedia e che mancano non perché siano irrilevanti ma perché magari quella che è la diciamo la composizione degli autori di Wikipedia che sono per la maggior parte uomini, bianchi, americani di classe medio alta non ha le competenze, non ha l'interesse per coprire determinati argomenti e si stanno infatti moltiplicando anche gruppi che mirano a rendere Wikipedia più ricca, più rappresentativa come per esempio il Women in Classic Wikipedia Group e così via. E vorrei concludere con un ultimissimo punto che è quello che appunto se è vero che il lockdown ha spinto magari anche spinto con forza gli insegnanti a utilizzare i metodi digitali spero che questo non voglia dire appunto che nel post-Covid queste cose appunto verranno semplicemente lasciate alle spalle e il prima possibile e che questa invece diventi un'occasione non solo per esplorare per apprezzare il valore didattico e pedagogico degli strumenti digitali ma anche quello che questi nuovi metodi digitali stanno il modo in cui questi nuovi metodi digitali stanno trasformando lo studio stesso delle discipline classiche e di come appunto il campo di digital classics si stia espandendo e che appunto il vecchio stereotipo dello studio di classics con appunto la giacca impolverata che passa il tempo in biblioteca stia diventando insomma veramente obsoleto perché molti classicisti oltre a passare le ore in biblioteca magari sono esperti di modelli 3D, di intelligenza artificiale, di link d'open data e così via e che magari se noi riusciamo a comunicare questo entusiasmo per tutte le novità che per tutti diciamo per tutte le nuove domande, per tutti i nuovi tipi di ricerca che gli approcci digitali consentono nello studio del mondo antico magari questo potrà anche portare un revival, una rivitalizzazione degli studi in campo classico Grazie davvero Valeria per questo intervento importante e intelligente We have another presentation now by Alessandro Iamelo before we can then engage in a discussion on the issues raised by Paolo himself Alessandro is university teacher for computer science and educational technology at Università di Milano in Torino He's also teaching university teachers how to teach with digital tools and methods at Carfoscari and he's going to talk about what digital actually means in contrast to digitized about the assessment and metacognition and the edtech enthusiasm Alessandro Grazie mille Franz, grazie Paolo per questo invito, sono molto contento e anche un po' imbarazzato perché è la prima occasione diciamo di questo tipo per me quindi inizio subito a parlare degli aspetti che mi hanno colpito in questo volume che ho appunto consigliato subito a un sacco di docenti del passato oppure ai miei colleghi e credo che questo volume sia molto importante in Italia perché fa un po' da spartiacque tra una tradizione che per l'Italia definirei un po' balbiana in cui gli strumenti per la didattica soprattutto del latino ma in generale delle discipline umanistiche venivano un po' intesi come strumenti dello specialista cioè strumenti del professionista di lingua e letteratura latina strumenti del ricercatore e invece un futuro in cui questi strumenti stanno diventando strumenti della didattica quindi sono strumenti didattici non più di quella disciplina, di quella professione infatti se esaminiamo poi i contributi dell'ultimo ventennio rispetto proprio all'applicazione delle tecnologie didattiche nel mondo del latino e del greco emergono soprattutto database, corpora, depositi di immagini quindi per lo più appunto strumenti del professionista quindi di chi si occupa o di lingua e letteratura latina o greca insomma a seconda dei casi oppure di informatica umanistica ma veramente sono strumenti di didattica e secondo me in questo passato è stato favorito un approccio a una didattica digitalizzata non tanto a strumenti che sono in grado di rendere il docente e lo studente attivi ma per lo più risorse da fruire nella maggior parte dei casi in maniera passiva e questa riflessione è importante in Italia perché il mondo dell'educational technology quindi delle tecnologie educative e didattiche non ha ancora diciamo il suo spazio nonostante questo biegno in cui ovviamente c'è stato un grande emergere di attività anche di formazione su questi strumenti però ecco si è sempre confusa soprattutto nell'ultimo anno il termine di didattica digitale con quello di didattica a distanza dove didattica a distanza non è didattica digitale ma è stata per lo più una erogazione a distanza quindi erede di quella formazione a distanza che è cambiata poco dagli anni 90 ad oggi ecco questo aspetto è importante in Italia perché se pensiamo anche a come vengono ritenute discipline come le tecnologie e le metodologie didattiche all'università talvolta vengono associate a settori disciplinari come quello di informatica per esempio quando ho sostenuto io l'esame di tecnologie della didattica aveva l'esame del settore INF01 talvolta invece fa riferimento al settore MPED03 quindi alla pedagogia speciale e talvolta invece è considerato come legato alla disciplina quindi per esempio per la didattica del latino anche quando l'insegnamento è metodologia e tecnologie per la didattica del latino fa poi riferimento al settore disciplinare della linguistica e della letteratura quindi viene un po' trattata diciamo a compartimenti stanni non intanto in un'ottica integrata come invece si auspica un modello che è quello che avrebbe dovuto ispirare il PF24 in Italia che è il modello TIPAC che integra appunto la tecnologia, la pedagogia e le competenze disciplinari e credo anche che il PF24 in questo senso rispetto alle tecnologie educative diciamo sia un po' un piccolo fallimento perché se poi si vanno a vedere le declaratorie ministeriali quello che propongono non è mai davvero tecnologia e metodologia didattica si parla per lo più di pedagogia in generale e anche quando poi si vanno a sostenere esami di tecnologia e metodologia per la didattica del latino o del greco nella maggior parte dei casi sono dei corsi di lingua e letteratura latina o greca con un approccio seminariale ma niente di più e invece in questo volume ecco emerge l'idea che ci siano degli strumenti apposta per la didattica che poi possono essere anche piegati a seconda della volontà del docente per attività legate allo studio del latino o del greco ma che innanzitutto sono strumenti didattici poi è ovvio che anche Paolo soprattutto verso la fine del libro dedica una grande parte anche ai corpori ma lo fa sempre inserendoli all'interno di precise attività didattiche quindi ci sono delle esigenze didattiche ci sono delle proposte ci sono degli obiettivi c'è una fase che prima mancava di instructional design ho visto anche che Paolo ha dedicato una parte all'uso di Moodle questo è molto importante perché nonostante ecco chi lavora all'università ovviamente impiega Moodle e l'ha impiegato penso ogni giorno in quest'ultimo anno tuttavia spesso Moodle è ancora ritenuto un deposito di contenuti un deposito di slide, un deposito di link qualcosa dove lo studente va per trovare i contenuti di quella lezione e su Moodle c'è ancora poca cultura invece Moodle è un vero e proprio ecosistema che ha vent'anni di esperienza e che offre tantissime esperienze e consente di attivare anche tantissime metodologie per esempio apprendimento per padronanza apprendimento autentico rientra anche nelle logiche di una progettazione didattica universale che oggi è molto importante vista anche l'attenzione soprattutto nel nostro paese a tematiche come quella dell'inclusione disturbi per l'apprendimento ecco, quello che mi è piaciuto nel libro di Paolo è proprio il fatto che emerga un'attenzione alla progettazione didattica è un uso degli strumenti digitali didattici non più strumenti per forza legati alla professione dei ricercatori alla figura del professionista e poi anche un po' la critica sottesa al digitale che testimonia anche un'attenzione rispetto alle evidenze scientifiche in materia di educational technology perché nella maggior parte dei casi attendiamo ovviamente i risultati degli studi dell'ultimo biennio ma se si vanno a vedere le evidenze scientifiche rispetto all'ultimo ventennio e qui cito per esempio Etty e i suoi meta-studii quindi tutto il mondo dell'evidence-based education raramente troviamo che l'impiego del digitale sia testimonianza ecco di un impatto in termini di efficacia sul processo di apprendimento di insegnamento-apprendimento solo piccole cose solo strumenti che riescono a garantire un feedback in genere allo studente in questo senso Moodle può essere molto d'aiuto soprattutto per il discorso che facevo prima citando per esempio l'apprendimento per padronanza il lavoro sul feedback è una cosa molto costosa per il docente perché ovviamente pensiamo per esempio quando facciamo un quiz su Moodle un conto è fare un quiz e mettere le risposte giuste e le risposte sbagliate e dire allo studente che cosa ha fatto bene e che cosa ha fatto male un conto invece è far sì che quando riceve la soluzione ha anche un feedback rispetto alla risposta che ha dato e un feedback anche generale rispetto a quella domanda che potrebbe essere un richiamo del capitolo nel quale è trattato con l'argomento oppure un approfondimento multimediale o anche analogico diciamo rispetto all'argomento di quella domanda quindi per chi di voi lavora con Moodle l'invito è quello di lavorare con quiz che abbiano feedback specifici quindi risposte legate feedback legati alla risposta che ha dato lo studente quindi perché hai risposto male e perché e quindi se hai risposto bene come mai quella risposta è giusta eventualmente fornire un approfondimento e poi anche feedback generali perché comunque il feedback se appunto si vanno a vedere anche metastudi di etti continua ad essere l'elemento che nel processo di insegnamento e apprendimento ha maggiore impatto sullo studente un altro aspetto è quello della valutazione alla quale Paolo dedica un capitolo ma la richiama più volte poi anche per esempio quando cita CAUT questa cosa mi ha colpito perché su CAUT appunto ho lavorato molto negli ultimi anni ora ormai è diventato qualcosa molto di moda quindi non è più nuovo come lo era qualche anno fa ma è uno strumento che continua ad essere interessante così come anche i suoi fratelli come per esempio Mentimeter che è un altro strumento di clicking in questo senso si chiamano appunto strumenti di clicking che sono anche un po' pericolosi perché tendono a favorire un anonimato nella classe a evitare la conversazione a evitare che gli studenti poi si espongano quindi vanno sempre utilizzati con attenzione magari per stimolare qualcosa di nuovo per stimolare una conversazione per far sì che dopo quell'attività gestita nell'anonimato con un nickname, con un iconcina poi ci sia effettivamente qualcosa quello della valutazione è un aspetto importante perché parlando con i colleghi con i miei anche ex docenti di latino e greco del liceo la preoccupazione qual è stata quest'anno la versione la copiano tutti copiano la versione eccetera come se poi in classe nessuno copiasse la versione ma questa è una piccola parentesi ecco io penso che anziché acquistare strumenti di proctoring costosissimi e quindi far sì di ripetere la situazione dell'aula a distanza evitando che lo studente copi per esempio mettendo 300 webcam nella stanza controllando che lo sguardo attraverso algoritmi di intelligenza artificiale non si sposti dal computer eccetera io credo che anziché puntare verso questi strumenti bisogna invece cambiare proprio l'approccio alla valutazione questo Paolo lo sottolinea anche nel volume per esempio proponendo attività di valutazione diverse un esempio che ha funzionato in questo caso nell'ambito dell'informatica e della statistica su Milano dove appunto non insegno latino greco è stato quello di trasformare gli esercizi di statistica da esercizi da fare a esercizi da correggere quindi lo studente era invitato a correggere un esercizio che aveva una soluzione sbagliata questa cosa potrebbe anche essere applicata tranquillamente a una traduzione quindi fornire una traduzione sbagliata e chiedere allo studente in diretta o attraverso un quiz Moodle di correggere quella quella traduzione sicuramente in questo caso andare a copiare diventa un pochino più complesso poi ci sono anche altre soluzioni ovviamente per esempio ridurre i tempi creare dei quiz sequenziali quindi evitare che gli studenti possano navigare all'interno del quiz però ecco credo che invece il proctoring non sia una cosa così fondamentale bisognerebbe proprio lavorare sulle strategie di verifiche e di valutazione e un altro aspetto fondamentale è quello della metacognizione perché in questo caso Moodle può essere molto d'aiuto per offrire per esempio strumenti legati all'autovalutazione in quest'anno che cosa è successo? nella maggior parte dei casi abbiamo offerto delle registrazioni agli studenti questo per lo più all'università e abbiamo evitato che esercitassero delle abilità metacognitive come quella del prendere appunti perché quando forniamo una registrazione che cosa succede? nella maggior parte dei casi lo studente lì non ascolta si va a sbobinare la registrazione e quindi perde tutto quel momento metacognitivo che è il prendere appunti che è una cosa fondamentale perché al di là del rapporto docente-studente poi si riversa nel quotidiano quando mi interfaccio con un cliente collego quello che mi dice alle mie conoscenze quando parlo con qualcuno e appunto faccio riferimento al mio vissuto quindi subito collego associo ed è quello che poi succede quando si prende appunti quindi si collega alle conoscenze pregresse si crea una mappa si mattino delle frecce su carta insomma si distribuisce e si rappresenta la propria conoscenza quindi si è perso secondo me in quest'anno e questo è colpa del digitale un po' questa abilità questa abilità metacognitiva e gli studenti sono diventati un po' degli stenografi quindi è ancora più importante insistere sulla valutazione offrendo anche delle opportunità appunto per una valutazione che abbia dei che stimoli delle abilità metacognitive e quindi per esempio lavorare su tipologie di domanda come il close che esercita abilità diverse rispetto per esempio a un classico scelta multipla vero o falso tra l'altro ecco anche legato a questo le abilità per esempio di problem solving quanti di voi riceveranno mail ogni giorno dagli studenti che questo è l'uscita anche Paolo quando fa il discorso quando fa riferimento ai cosiddetti nativi digitali studenti che non hanno la capacità di mandare una mail o che non sanno collegarsi al portale non trovano il materiale non trovano qualcosa e nemmeno si impegnano per risolvere quell'impasse per esempio penso a una studente estremi aveva inviato la fotografia della sua tastiera perché non riusciva a fare uno screenshot io vabbè ovviamente ho risposto gentilmente l'ho detto quali tasti utilizzare ma mi ha stupito il fatto che non avesse scelto di cercare sul web per esempio come fare uno screenshot col suo computer o chiedere a un collega quindi credo che anche la capacità di problem solving di risolvere piccoli problemi connessi al digitale poi testimoni che cosa non una competenza digitale ma appunto questa confidenza nell'uso di social di una serie di strumenti senza poi capirne le logiche e anche gli stessi strumenti soprattutto quelli commerciali poi ci incentivano a comportamenti di questo tipo quando per esempio addirittura evitano che compiliamo dei moduli di iscrizione e ci consentono di loggarci a un determinato strumento cliccando su pulsanti del tipo loggati con facebook o loggati con google loggati con apple id in questi casi che cosa si perde? si perde un modulo di iscrizione che però è anche un esercizio per lo studente l'ultimo aspetto perché ora non ho preso i tempi Paolo ancora qualche qualche minuto Paolo come sai non sono bravo nella gestione del tempo l'ho dimostrato al convegno a io cd ho ancora un minuto un minuto poi vogliamo avere un po' di dibattito certo ecco un altro aspetto ma è quello che poi ha già stato detto in introduzione il fatto che il libro è moderato e presenta i contenuti per quello che sono quindi non c'è questo approccio appunto edtech entusiasta direi anche per riprendere quella che è il degli anni 90 nell'etnografia della rete tra i cyber entusiasti i cosiddetti debunkers oggi in un momento in cui su LinkedIn spopolano formatori che propongono attività innovative strumenti innovativi metodologie fantastiche che fanno uso del digitale realtà virtuale learning analytics intelligenza artificiale e nella maggior parte dei casi nascondono tanta fuffa questo volume invece presenta non tutto perché come Paolo dichiaro ci sono delle cose che non vengono presentate come per esempio alcune tematiche legate all'intelligenza artificiale o ai learning analytics ma quello che presenta lo presenta con efficacia all'interno di una proposta didattica quindi c'è sempre questo elemento didattico che è raro in questo tipo di contributi e credo che questo sia importante perché non spaventa i docenti spesso quando presentiamo qualche contenuto qualche strumento qualche attività digitale ai docenti che cosa di scuola intendo che cosa succede si trovano un formatore davanti che insegna loro come si fa didattica e si spaventano oppure si sentono un po' risentiti perché dicono com'è che qualcuno arriva e mi insegna come si fa il mio mestiere che fa da 20 da 30 anni invece questo strumento questo libro è più silenzioso in questo e invita a provare delle cose e questo è importante perché sicuramente il docente non è un progettista didattico non è che è un'altra figura e qua tutta una parentesi ma lascio stare non è un esperto di tecnologie ma è qualcuno che deve possedere un suo bagaglio di strumenti che sarà diverso rispetto a quello dei colleghi deve testarli e quindi qui l'importanza di Paolo di mostrare strumenti che conosce ha utilizzato e deve fare deve utilizzare quel piccolo bagaglio per vedere se quello che ha fatto fino adesso può funzionare meglio quindi può ridefinire un po' quello che già stava facendo quindi qui sempre un approccio digitale quindi di ridefinizione di trasformazione della didattica e non una ripetizione di quello che farebbe anche senza l'impiego del digitale faccio e spero ecco grazie alessandro che siano stati utili grazie adesso abbiamo non so dieci minuti non di più perché poi andiamo a scaricare il libro e cominciamo a leggere io comincio con il capitolo su Moodle perché c'è tanto da fare da parte mia sì allora il flow è open diciamo potete utilizzare il chat per segnalare che volete fare una breve domanda e breve risposte perché ci sono tante cose da discutere allora chi vuole potete anche alzare la mano il mano io guardo il chat potete anche cominciare a parlare non siamo troppi poi abbiamo abbiamo dieci minuti magari beh allora si è parlato si è parlato tanto appunto di didattica di metodi di strumenti eccetera io per quanto mi riguarda una delle esperienze forse anche più produttive dal punto di vista dei progetti che sono stati fatti dagli studenti è stato quando ho lavorato in con la professoressa Cipolla nel suo corso io stavo facevo il mio corso di informatica monistica lei il corso di filologia germanica e abbiamo unito le due cose il mio corso si focalizzava sulle edizioni digitali e ovviamente il suo corso su elementi di filologia germanica con un caso studio e lei diceva appunto il risultato è stato che i ragazzi avevano acquisito molta più chi aveva fatto l'edizione digitale aveva acquisito molta più conoscenza dal punto di vista filologico perché aveva messo in pratica il appunto e aveva dovuto in qualche modo riportare in un'azione che era l'azione appunto della codifica ma non soltanto anche della visualizzazione alcuni concetti che erano appunto stati affrontati a lezione e questo secondo me dovrebbe essere anche un po' il il passaggio cioè cercare in qualche modo non soltanto di studiare gli strumenti informatici ma di cercare di oltrepassare di uscire fuori dalla nostra zona comfort e andare un po' a influenzare e farci influenzare ma nelle altre nella didattica soprattutto perché loro da una parte avevano acquisito molta più consapevolezza sugli elementi di filologia germanica ma dall'altra avevano capito il senso della codifica e di tutti quei processi che avevamo messo in gioco per la costruzione e la realizzazione di un'edizione digitale quindi questo li ha fatti pensare su diversi li ha fatti ragionare su diversi livelli e questo mi sembra che in qualche modo almeno in Italia manchi molto cioè ci sono un po' le discipline che hanno dei contorni troppo delimitati mentre si dovrebbe appunto cercare di trovare molto più dialogo fra discipline e perché non è non penso veramente che le scienze umanistiche saranno cioè saranno l'elemento digitale deve essere anche incluso nello studio della delle discipline tradizionali quindi questo mi sembra un punto che su cui si potrebbe parlare l'altro 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 punto è il fatto che il ritorno sul concetto di openness e di comunità cosa che sulla nelle discipline tradizionali c'è sempre questa paura se condivido con te questa informazione poi in qualche modo mi viene mi viene rubata o viene utilizzato o viene utilizzato il mio lavoro per è un un atteggiamento un approccio completamente diverso che la costruzione di comunità questo che probabilmente dovremmo portarlo dovremmo influenzare dare dare l'open access sono due concetti che in qualche modo mancano alle scienze umanistiche da una parte però dall'altra noi abbiamo anche il concetto di scuola la scuola nella letteratura è stata sono state anche delle comunità delle comunità in cui si condividevano delle delle esperienze e dei saperi e questo dovrebbe essere anche un 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 punto in più questo però dall'altra parte nelle digital humanities dovrebbe portare alla creazione di relazioni con comunità che producono strumenti di open source che producono strumenti non soltanto nel web ma anche in genere e contribuire a questi strumenti è assolutamente importante quindi abbiamo questo doppio ruolo che comunque continuiamo con con fatica a a perseguire obiettivi più che ruoli era solo un commento grazie diciamo sì sì altri commenti pensieri osservazioni domande siamo gli influencer siamo noi dobbiamo noi tocca a noi a migliorare a migliorare il mondo digitale nella didattica accademica e a scuola certamente altre osservazioni io avrei una una riflessione sì penso che le proposte che vengono fatte nel libro non siano solamente da intendersi come proposte per migliorare o coadiuvare la didattica degli insegnanti ma anche per avvicinare gli studenti soprattutto delle superiori a quello che è il mondo dell'informatica umanistica perché spesso quello che ho notato anche nella mia precedente esperienza di insegnamento c'è ancora l'idea nel liceo classico linguistico che gli studenti debbano dedicarsi meno o per forza debbano essere meno propensi verso materie scientifiche come per esempio l'informatica invece credo che introdurre poco a poco quelli che possono essere anche concetti modularizzati di informatica umanistica possa invece aiutare gli studenti a acquisire una maggiore consapevolezza di quelle che sono le loro conoscenze a livello linguistico e anche di sviluppare delle digital skills che adesso sono tanto richieste ma che in realtà è un termine abbastanza informe delle digital skills che in realtà siano funzionali a quello che è il loro percorso didattico e che magari le avvicini con maggiore coscienza anche allo studio delle lingue che spesso viene inteso soprattutto i primi anni del liceo come unicamente legato a grammatica e letteratura e a volte manca anche un po' la motivazione quindi secondo me anche molti degli strumenti proposti sia per l'aspetto multimediale che la novità potrebbero essere anche un ottimo punto di partenza per introdurre piccoli moduli di informatica umanistica superiore grazie se posso sì assolutamente me ne ho proposto di non intervenire perché sono molto curioso di interventi di altri ma su questo non posso non intervenire ringrazio molto Andrea di questo e contesto solo una cosa che l'informatica sia una materia scientifica ovviamente lo contesto paradossalmente scientificamente cioè informatica è principalmente logica cioè alle spalle c'è Leibniz eccetera si tratta di pensare certi contesti in maniera formalizzata ora questo appunto a scuola tipicamente chi fa l'animatore digitale è il professore di matematica io voglio molto bene a tutti i laureati di matematica ma non ma spesso sono laureati in biologia ma non c'entra niente cioè l'informatica è a mio parere logica più semiotica e questo è l'informatica nel mondo reale quando poi le aziende le pubbliche amministrazioni hanno bisogno di assumere una persona che sia in grado di pensare in maniera complessa e agire nel mondo digitale questa figura ha evidentemente delle competenze che sono proprio questo nodo dell'informatica umanistica cioè pensare in maniera formale concetti che non sono matematici è più facile pensare in maniera formale un'equazione perché l'equazione è già stata formalizzata già dall'algebra medievale è stata formalizzata questa formalizzazione la trasferiamo in digitale invece formalizzare anche banalmente una lista di clienti di un'azienda è un'azione che fa da ponte tra un concetto che è quello di cliente quello di relazione tra azienda e cliente e la formalizzazione di informatica ora questo nodo questa skill diciamo così sono d'accordissimo è una skill di cui l'azienda non bisogna aggiungo anche quello che ha detto Valeria prima la figura dello studente universitario in materie umanistiche che ha fatto un laboratorio digitale forma profili civici è utile per chi resta nella ricerca c'era te Valeria vero aggiungo una terza cosa è una figura che può piacere molto a un'azienda cioè uno studente che ha fatto che ha formalizzato che ha annotato Euripide proprio Euripide nell'azienda non so bene però sì scusate dovevo tacere ma come sapete è una cosa che non sono bravo a fare grazie Paolo no sarebbe posso intervenire? sì prego ultima parola a Tito Orlandi benvenuto ecco sì fra l'altro allora metterò anche non voglio nascondermi solo un minuto perché Paolo mi tira per i capelli e credo che sia un punto importante che vorrei sottoporvi poi che può essere importante anche dal punto di vista della didattica perché noi siamo abituati naturalmente a fare la distinzione fra chiamiamole discipline umanistiche insomma quello che noi reputiamo umanistico in generale e le scienze che è sempre difficilissimo definire ma sappiamo tutti a cosa alludiamo ora è vero io credo questo è un'eredità che ci arriva come sappiamo tutti ma appunto voglio ricordarlo per vedere in che orizzonte ci mettiamo è qualcosa che ci deriva da un'eredità del 600 perché è stato da allora che pian piano si è formata questa suddivisione che prima tutto sommato non c'era vorrei ricordarlo appunto non è che che la fisica è nata fisica così è nata nel seno della filosofia e delle scienze umane diciamo così all'epoca di aristotele ma non si sarebbe nemmeno sognato di fare una cosa di questo genere ecco e ora è sempre più direi di moda dire no non c'è questa differenza e vorrei farmi forte diciamo della mia qualifica per parecchi anni di direttore del centro linceo interdisciplinare in cui appunto si esercitavamo diciamo la nostra analisi su questo problema quindi diciamo che oggi veramente questa differenza è destinata a cadere ci sono tanti che sono ancora diciamo nella vecchia cosa ma noi sappiamo bene che è la cosa però viene sostituita e viene utilmente sostituita da una differenza che invece si stenta a fare e che io credo che sia alla base di qualcosa che soprattutto succederà nel futuro ma sta già succedendo e cioè la differenza fra tecnologia e scienza di base scienza teoretica scienza teorica scienza appunto quelle che sono considerate di base anche dalle scienze noi noi spesso oggi facciamo il l'errore di considerare scienza vera e propria quello che in realtà è tecnologia la maggior parte di quello che si insegna nelle facoltà scientifiche non è scienza è tecnologia è una cosa differente e allora anche noi nel nostro orizzonte dobbiamo distinguere quello che utilizzando l'informatica e tutto quello che volete resta nell'ambito tecnologico che attenzione è una cosa molto sottile perché oggi si tutti i vari programmi di utilità eccetera vengono considerati qualcosa di teorico anche il software è software no il software può essere altrettanto tecnologico che costruire una ruota di bicicletta non c'entra niente con quello quindi dobbiamo cercare di imparare a tenere distinti se io sono appunto volevo buttarla là e adesso mi fermo la differenza al posto di differenza fra scienze umanistiche e scienze naturali chiamiamole così la differenza fra tecnologia e riflessione di base nella quale va nettamente quello da cui è partito Paolo per dire attenzione l'informatica è discorso formalizzato sostanzialmente e che cosa non lo è allora certo la matematica ma la fisica non è non è altro che discorso formalizzato quando è fisica per davvero nel vecchio senso degli Schrödinger eccetera e dei Heisenberg mentre invece la maggior parte delle cose che sono fatte passare oggi per fisica io mi compreso le nanotecnologie che però appunto si chiamano tecnologie eccetera eccetera insomma ad ogni modo io direi che appunto si tratta di tecnologia grazie grazie mille per queste chiarificazioni e per questa discussione molto molto ispirante la discussione continuerà Paolo se tu vuoi finire con una ultima parola grazie a tutti i presentatori Valeria Alessandro ai organizzatori Tiziana Elisa e a tutti i partecipanti Paolo ultima parola ok anche io mi unisco e ringraziamente a tutti quelli che sono intervenuti a vario titolo e ci sarebbe tantissimo da dire chiudo solo con una cosa sia in informatica umanistica sia in didattica digitale ringrazio anche qui voglio chiudere con una cosa che ha detto Alessandro nella prima però sia in informatica umanistica sia nella didattica digitale c'è un lavoro che manca c'è un dibattito di cui si sente il bisogno cioè non tanto i dettagli tecnologici non prese di posizione generali non l'ulteriore corso di formazione di cui sono stato vittima da docente di scuola per imparare a usare quello specifico software per quella specifica LIM fatta dal tecnico dell'azienda che produce la LIM non tutto questo di cui siamo pieni chi ha vissuto veramente i dipartimenti e la scuola sa di cosa stiamo parlando altrimenti sembrano delle cose banali e ovvie invece questo è ciò che occupa il campo invece si sente un bisogno io ne sento un bisogno in informatica umanistica il bisogno di discutere di metodi e di modelli che poi possiamo applicare tecnologicamente in varia maniera e questo sarà un discorso che sopravviverà perché poi tra dieci anni ci saranno nuovi strumenti nuove implementazioni ma i modelli si costruiscono gli uni sugli altri e in didattica digitale ha detto benissimo Alessandro cosa io sono come dice Montale cosa non siamo cosa non vogliamo io non sono un progettista didattico sono un docente la comunità dei docenti a scuola all'università soprattutto oggi in cui siamo in questa svolta fondamentale che sta avvenendo dietro le nostre spalle attenzione nelle governance degli Atenei e al ministero ecco la comunità docente dovrebbe fare un discorso che mi sembra sia manchi cioè su cosa funziona e cosa non funziona cioè un discorso fatto da una comunità community of practice sui metodi didattici e mi sembra che sia un lavoro tutto da fare di cui si parla paradossalmente di entrambe le cose più nei corridoi delle sale professori che magari sulle riviste o nelle pubblicazioni e quindi sono molto grato a tutti spero sia stato ultimo l'incontro a me questo perché questo discorso oggi grazie a chi è intervenuto l'abbiamo un po' fatto grazie ancora grazie mille buona lettura ci vediamo il più presto possibile online o in presenza speriamo buona giornata a tutti arrivederci grazie a tutti